è impossibile non sopravvivere, lo so bene, sono ancora viva qua tu non c'eri, anzi no, peggio, tu c'eri ultima immagine aspetta, aspetta allora ricominciamo, c'era una volta la domanda che ci facciamo sempre, va tutto bene? si, va tutto bene, va benissimo però appena ti fermi un attimo e riprendi a dirti le parole e tu non hai voglia di sentirle parole piccole tu hai detto hai detto che brutto, che minchiotto tu hai detto e allora il gioco sai qual è? quale diventa? che tu noti o non noti la sua assenza abbiamo ragione? ho ragione, ho torto, non me ne frega niente se ho ragione o se ho torto però voglio dirtelo voglio dirtelo, voglio dirti che a me non mi va di bere il caffè con te che a me non mi va di parlare ori ori con te non me lo ricordo e allora il tempo non c'è perché il tempo c'è e c'è sempre o non c'è e non c'è più non c'è più perché l'angolo è talmente stretto il tuo sguardo diventa opaco io sono finita e sto per dire esattamente quella singola parola che non dovrei dire non lo so mai qual è però riesco immancabilmente a dirla dimmi qualcosa figlia mia dimmi quanto mi ami dimmi quanto mi ami non posso dire niente io non ho parole non ci stanno più le parole perché le parole sono delicate e non escono fuori quando si porta la domanda come nel tribunale dell'inquisizione e allora le parole si sono spappolate si sono spappolate strada facendo dire dire tu 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 passare di fermo 5 minuti no non era 10 30 secondi 30 secondi quando proprio non c'è nient'altro che mi potrebbe salvare se non una bella crisi di panico il problema è che la crisi di panico non c'è più smetto 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 io smetto io ti siedi lì e aspetti io dico qualcosa che non ti vada bene che ti dia i nervi per confermarti nell'idea che c'è qualcosa in me che non va perché io sono questo e sono quest'altro sono questo e sono quest'altro il pensiero è concluso concluso il pensiero è concluso il pensiero è concluso allora continuo a chiedere dettagli per vedere sempre meglio per vedere sempre meglio ed è un iperbole è un iperbole non riesco a fermarmi più e divento veramente miserabile perché credo che avendo tutti questi dettagli in qualche modo posso annullare annichilire anestetizzare il dolore che mi dà il fatto che hai voltato l'angolo che non riesco più a vederti e che lo hai voltato senza neanche sapere di voltarlo in un caso oppure lo hai voltato sbattendo la porta in un altro e dicendomi adesso tu da qua adesso tu da qua adesso tu da qua spiego di vuoto parole non sapere vuoto e non posso stare nel vuoto non riesco a stare nel vuoto e allora ieri mattina ieri mattina ho fatto la stessa identica cosa e non riuscivo a fermarmi e perché dovrei avere sensi di colpa? no, paura paura che ti giri dall'altra parte proprio quando io invece sto cercando di allungare non sopporto che non ricordi non sopporto che poi tutto passa perché tanto si sopravvive è impossibile non sopravvivere lo so bene sono ancora viva qua ultima immagine clock clock clock